Eccoci l'entrata in campo, ci troviamo sul terreno di gioco del Santusagno del Sancro, gara Virtus Castelfrentano, San Puceto Calcio, il San Puceto gioca con la maglia giallonera, le zebre, mentre la Virtus Castelfrentano con la classica maglia bianca, la seconda divisa ufficiale con gli svolti giallorossi, il direttore di gara è della sezione Aglia di Chieti, in bocca al lupo, andrì benissimo. Bocca al lupo, ragà!